La Brexit vista con gli occhi di insercienze. Alberto Sant'Angelo, un affermato operatore della comunicazione che da 15 anni vive a Londra e che ha toccato con mano il risultato referendario del 2016. Tu vivi in Gran Bretagna, che è la Gran Bretagna al centro dell'attenzione per la sua decisione, la decisione della maggioranza dei suoi cittadini attraverso il referendum di uscire dall'Unione Europea, la famosa Brexit. Secondo me è stato un rigetto della globalizzazione. Le persone delle campagne o delle zone dove le industrie chiudono si sono resi conto che loro non hanno nessun vantaggio dalla globalizzazione, sono quelli che stanno subendo le conseguenze negative. È diventato anche un referendum contro la Londra, la Londra della finanza, della City, che produce le multinazionali. In effetti i deboli hanno reagito. Il voto di una persona che si trova nella campagna ha lo stesso valore del voto di una persona della City di Londra con uno stipendio da 6-0. Ci sono rimasto male perché ho detto che non me ne sono mai accorto. I miei colleghi, i miei amici, le persone britanniche di Londra non sembravano a favore di rimanere. Erano a favore di questo concetto dell'Europa, soprattutto negli uffici che ho sempre lavorato, gli stranieri, che a quel punto non eravamo mai chiamati stranieri. Adesso siamo passati prima europei, come se i britannici non fossero europei, adesso siamo completamente stranieri. Ecco cosa ha fatto Alberto per fronteggiare le conseguenze di Brexit. Sono diventato britannico, quindi ho fatto la richiesta di cittadinanza britannica. Avere l'ansia che i miei diritti dipendano da chi c'è al governo non penso sia la soluzione giusta. Invece è quello che ho voluto evitare. Ovviamente prendere la cittadinanza ha un costo, quindi devi investire su quello. L'ultima cosa che vuoi fare è pagare soldi dopo che hai pagato le tasse per 15 anni. Abbiamo lottato per i diritti nel mondo per sempre. Forse questo è il problema maggiore per un cittadino europeo come me in Gran Bretagna, che non sai cosa sta per succedere domani. Con Alberto Sant'Angelo in questi giorni a Sciacca per godersi il carnavale, laureato in Scienze delle Comunicazioni all'Università di Salerno, abbiamo parlato poi del suo lavoro di operatore, in particolare nel settore della pubblicità, con un'esperienza molto importante sul campo, niente meno che tra i dipendenti della BBC. Avevo fatto anche una tesi di laurea sulla BBC, avevo cercato di creare un concetto di qualità televisiva. Lavoravo nella pubblicità. La BBC è una televisione pubblica, non può avere la pubblicità in Gran Bretagna, nessuna pubblicità alla radio, online e in televisione. Lo fa nei canali internazionali. Ecco, quindi quello ha creato quell'ambito internazionale che poi mi è piaciuto, nonostante il tipo di lavoro. C'era un codice etico molto molto stretto. C'erano due concetti nel codice etico della BBC. La separazione, completa separazione tra giornalisti e quelli che come me si occupavano di pubblicità. Non ci facevano parlare, cioè nel senso, eravamo completamente separati. Loro non sapevano, per evitare influenze di tipo commerciale sul prodotto. Adesso ho cambiato azienda, quindi adesso lavoro per l'azienda che ha MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Channel. Dal maggio del 2018, la legge europea, la direttiva europea, non so come si chiama in italiano, il GDPA. Quello è stato un bel mal di testa, soprattutto per Nickelodeon e i bambini, perché la direttiva europea prevede il consenso per utilizzare i dati. Tu non puoi chiedere il consenso a un bambino di sei anni, devi chiederlo al genitore. Quindi abbiamo preso in maniera molto molto seria questa del GDPA, soprattutto su Nickelodeon. Per un momento abbastanza lungo non abbiamo fatto pubblicità assolutamente online.